A posto Adrenalina La vengono anche La seringa Te la metto, quando stai dando l'ipotremia Vero, c'è una delle cose Il mio collega C'è un tipo la cenatora che fa Slippare le rovinate Ma in opertose Ah, è nella posta Eh, non la pare, l'ho visto quel tipo E la salva Che cazzo è l'adrenalina, quindi forse è quando sei Collassato di No, no Collassi molto la botta per farti Tornare in vita Quando c'è un infarto di una adrenalina muo Direttamente Tant'uno viene e ti crava con una cosa dentro Il cuore Secondo me io non lo picchi per tipo Mica, 10 anni Stai dando la pinnale Ma hai, la pinnale è la parola Ehi Buongiorno 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 Al contrario Buongiorno Al contrario ExSpec Al contrario Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, sai cos'è? Ho messo il patino per salvarmi. E' finito. Cioè, è male. Ho messo il patino. Cioè, l'ho visto male. Venta, ma è male che non ti sei fatto un caro. Venta, glielo potevate dire di metterla a meglio la macchina, cazzo. No, 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 no.